Sinceramente non so quale aspettative possiate avere Avrei fatto a meno di questo assaggio perché già la girella normale sa di rancido Quella con la granella era immangiabile Ma me l'avete chiesto talmente in tanti che chi sono io per dire di no? E comunque sono qui per essere smentita Oh, hanno cambiato l'incarto? Se tengono a darci informazioni importanti ci dicono anche che la girella resterà la stessa di sempre Anche se cambiano l'incarto, ma speriamo di no! Una cosa che facevo da piccola era srotolare la girella Per inciso, negli anni 90 la girella era mondiale ed era morbidissima Allora sì, si può srotolare con grossa grossa, ma grossa difficoltà, si spacca Ma buh! Ok, non era così una volta Solita cioccolataccia Un caramello c'è, si senticchia Caramello forse per modo di dire, ma È meno o peggio di quello che pensavo perché io parto sempre col fatto che sono immangiabili È un pochino secca, ma neanche tanto Non è un'esplosione di sapore, cioè perché comprarla? C'era una parte che non era secca C'era un po' più di crema Boh, gli è scappata la mano Ormai io sono molto generosa Mi do un 7 Molto, molto meglio di quella con la girella Che non sono riuscita a mandarla giù in nessun modo Ok, rettifica, sono passati due minuti C'ho un gusto di stallatico in bocca Vado a lavarmi i denti Il mio 7 diventa 5, ciao